Non è la vera? Segnate Sennò le perche Se dovessi che hanno fatto il rischio del mercato E nel ballo History 1 contro Frasbo Non è il vieno della vita Vai! Stirò Allora Il Pulis sarà al 13-17 Quindi già Il campionato è fuoco Staccalo Al centro ancora Al centro Via Simo Pulisci Simo vai regalo! stai lungo! stai lungo! va giù regalo regalo a staccarti occhi a lungo destra! 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 staccati! che figlio! vieni! e vedere la prossima torna! Martina è il 5 Sinistra, 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 sinistra Destra, 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 destra Chiama, chiama, chiama Destra, 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 destra Destra, 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 destra Destra, destra, destra Bullo, stai giù, Bullo Arrivare, arrivare rega Vai arrivare Sinistra, sinistra Chiama, Manuel, Manuel E' il 6 Il 6 5 6 6 3 3 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 8 9 9 9 13 8 10 10 3 7 10 19 6 ha visto la sua squadra risalire dai ragazzi via 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 va giù il leggo, va giù, ecco, ecco, uno, al giù, 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 There you go! Libuco, Libuco! ... ... ... ... ... ... Sì, 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 sì! 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 La differenza in serie B la fa la testa e tre di voi. Vuol dire che dovete attaccare i rischi, fare sempre la finta prima di ricevere, perché altrimenti non vi smaricate, ok? Perché questi corrono come voi. Vola e errori personali, perché ne abbiamo fatti un botto, scelte del cazzo, guardiamoci negli occhi quando ci dobbiamo dare un passaggio, va bene? A meno che non siamo proprio sicuri del movimento che farà il nostro compagno. Vanno in palla, cioè, se non trovano la soluzione per riempire, la side deve lavorare vicino ai portatori loro, dobbiamo stare lì, dobbiamo essere tanti, dobbiamo fare il bordello, dobbiamo caricare la nostra gente che deve difendere, ok? Questo è il nostro lavoro. Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Simo, Simo, il tuo deve ricevere. Simo, fai lo ricevere. Simo. Fai lo ricevere, Simo. Ma lo sappi che qua d'un giorno deve... Sì, sì, dai, Rappo. No, buco, no, buco. No, no, tienilo. No, tienilo. Simo, dai, 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 dai. No! Dai, Nando! Nando, stupi! Dai, lo favo, stupi! Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Dai, va, si ripendi. Gianni, giulio! È giusto! Simo, vanno richiedere, Simo! Siamo avanti, insomma, il salto. Siamo avanti, vieni, vieni! Simo, vai la mano! Calma, calma! Calma! Nuovo, luco, luco, luco... sono ancora troppo pettinato e poi diventa col pallone dai bebo il tuo scendi i bossi e non escludilo bravo bebo era buona bebo 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 but all beat 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 Angie io faccio un po' l'abbiamo buttato la pila vai, arrivare, arrivare vai, arrivare vai, arrivare vai, arrivare che cosa mi succede, che cosa che cosa lo vuole guarda lui guarda lui a uomo, a uomo, che cosa occhio, manu, dietro dare una mano, dare una mano che quello fa lo ricevere che cosa arrivare vai, arrivare vai, manu, manu guarda l'occhio a sinistra guarda l'occhio guarda l'occhio guarda l'occhio guarda l'occhio Dai Marti cazzo! Calmi, calmi, dietro la testa! Anche perché se c'è un'altra partita poi ci siete voi, però dopo questa voi non siete un'altra partita poi ci sono un'altra partita poi ci sono un'altra partita poi ci sono una partita poi ci sono due a qui. Mhm, ecco. si botta, si botta, ce l'hai bozza Grazie a tutti. 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 It's... Yeah... 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 Ciao...